Donare il sangue e donare la vita! Alice Balla della scuola elementare 4 novembre a cui è andato il primo premio come miglior lavoro individuale e i bambini della quinta A e quinta B del plesso scolastico Enrico Medi che si sono aggiudicati il primo posto per il miglior cartellone. Abbiamo dato degli input, abbiamo studiato degli autori contemporanei come Damian Ears e Banksy, un artista di strada e poi abbiamo creato mettendo insieme due opere significative di questi artisti e loro con molto entusiasmo partecipano. Che cosa avete voluto esprimere con questo cartellone? Felicità, gioia, libertà. Ti sei divertita a fare questo lavoro? Sì, io, sì, tantissimo. A tutti coloro che hanno partecipato è andato un piccolo premio e tra l'entusiasmo generale c'è stato anche chi ha improvvisato una poesia dedicata all'Avis. L'Avis vi fa scoprire una nuova realtà di vita che tutto il mondo non è rosa e fiori ma con dei piccoli bolcioli che siamo noi riusciamo a salvare dei grandi alberi che riescono a crescere e che sono le persone malate. Perché è un piccolo germoglio che con un po' del nostro contributo diventa una grande quercia. Bravissima, ma l'hai scritta tu questa poesia? In realtà l'ho composta sul momento. Soddisfatta Elisabetta Marcolini, presidente dell'Avis di Macerata. Abbiamo lavorato molto ma mi sembra che i frutti ci siano stati. Noi siamo molto contenti per la partecipazione e per i riscontri, anche i bambini e le maestre. Quindi l'intenzione è di continuare su questa strada.